benvenuti siamo qui su tv pigna siamo qui in centro più o meno di verona e oggi è la giornata mondiale contro i risvoltini il primo che andrà a togliere i risvoltini sarò io accompagnato dal nostro collega francesco sdb e anche lui come potete vedere chiudi lui lui ha i risvoltini il camera come è possibile è la giornata mondiale contro i risvoltini quindi vi dobbiamo togliere i risvoltini riprendi riprendi è una malattia che deve essere curata peggio dell'ebola si si peggio molto peggio che giornata è oggi si che giornata è aprile si ma è la giornata mondiale contro i risvoltini questo ha capito tutto la scuola ha capito tutto scusa sai che giornata è oggi è la giornata contro il risvoltino porto al palo no sono così importante ma fermati che ritorniamo perché è una malattia che deve essere curata aiutate con l'altra gamba per favore anche questa ragazza l'ave stata guarita quell'altra scappa perché c'hai risvoltini e ti ha guardato tutto il tempo è una brutta malattia è d'accordo e basta non ci sta accortando no, no, no ha fatto amministratto si fa almeno nooo cosa hai fatto? si ok ma non quel giorno lì è un altro giorno è più importante il giorno bisogna curarsi capito? si quindi interveniamo riprendi anche qua dai adesso arrivo adesso arrivo aspetta ok mi sono prendendo scusa noi dobbiamo tolgerla no mi dispiace ma ma c'è anche lui guarda mi tolgo io c'è gli allunisti qua ci vediamo 4 giorni la mattina ecco per caso sai che giornate è oggi? si vuoi indovinare? no vabbè a parte quello è la giornata mondiale contro il risvoltino nooo quel cazzo lo dobbiamo tolgerlo ciao mi dispiace ma la malattia no no si ma la malattia è brutta no no dai no 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 è fatto il mio motto è risvoltino al cielo ma come? assolutamente si ciao qui signora sai che giornate è oggi? che giornate è giusta? ma come? no 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 no